bene amoleoni e ben ritrovati in un nuovo video su minecraft nell'altro episodio ho fatto anche questo ponticello di collegamento per arrivare su quella collinetta così giusto per farlo però sinceramente pensandoci mi è venuto in mente di fare una torretta di guardia per controllare la nostra casa e la zona e non mi sembra una brutta idea sinceramente quindi oggi andremo a costruirci per il momento la torretta di guardia prima di incominciare questi sono i materiali che ho deciso di utilizzare per questa torre e sinceramente voi potrete utilizzare qualsiasi tipo di materiale dalla sabbia al legno detto ciò incominciamo una lastra di pietra qui poi una scala di mattoni qua un'altra lastra di pietra qui una scala di mattoni e un'altra lastra di pietra qui perfetto andiamo da quest'altra parte mettiamo una scala qui così molto bene facciamo la stessa cosa da questa parte un'altra qua una qua e per concludere una lastra di pietra qui come base mi sembra bene andiamo un attimo a nanna ah comunque qui mi sono fatto delle piastre di oro per sbaglio e le ho messe all'interno che vediamo adesso come potrei fare allora andrei a mettere qui questi mattoni di pietra sugli angoli e perché non lo mette ok e ci alziamo di che vediamo 1 2 3 4 5 boh si dai proviamo con 5 2 3 4 5 che vediamo quanto è alta potrebbe anche andare bene mettiamo adesso la pietra qui qui qua e dopo qua ok poi andrei a mettere delle assi di legno al centro lunghe come sti pilastri adesso andremo a mettere questo muro di ciottoli però mi raccomando se la volete fare dovete stare attenti da che parte dopo volete salire io ad esempio metterò qui dopo le scale andiamo a metterci questo muro di ciottoli qui 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 e la stessa cosa su tutti gli altri lati tranne quello dove ovviamente andranno le scalette andiamo a mettere anche le scalette e vediamo com'è aspetta andiamo dal ponte che si vede sicuramente meglio se se mi piace come sta venendo chiedo palli anche incominciato a piovere cazzo allora adesso andrei a mettere queste scale di mattoni qui così bene adesso andiamo a prendere questa lastra di ciottoli e uniamo il tutto questa ma se dai uniamo in teoria riusciamo a salire che vediamo se molto bene questi muretti di ciottoli giusto gli ultimi non ci servono quindi gli andrei a togliere e al suo posto metterei semplicemente dei ciottoli sì e adesso andiamo a mettere sugli angoli questi cubi di pietra che non mi ricordo mai come cazzo si chiamano benissimo e per finire sinceramente andrei a mettere giusto queste lastre di pietra al centro e direi che abbiamo concluso andiamo a vedere da giù come si vede bella dai a me piace sinceramente fatemi sapere anche voi nei commenti che ve ne pare e comunque potete alzarla di quanto volete io l'ho fatta alta 5 però potete alzarla quanto vi pare sinceramente molto bene ora andremo a costruirci una farm di grano automatica la zona penso proprio che sarà questa innanzitutto questi sono gli strumenti necessari per costruire la nostra farm avremo bisogno di un paio di mattoni di pietra io ho voluto utilizzare questi poi 5 distributori 5 ripetitori di pietra rossa un comparatore di pietra rossa 5 tramogge un pulsante indifferente quale un paio di semi di grano e un paio di secchi d'acqua direi di incominciare da qui facciamo un buco in questo punto mettiamoci l'acqua e scaviamo avanti fino a che non vediamo che l'acqua si ferma eccoci qua l'acqua si è fermata quindi va bene così adesso dobbiamo prendere la nostra zappa e incominciamo a zappare così contando 1 2 3 4 5 molto bene e dopo tutto in mezzo adesso facciamo la stessa cosa dall'altra parte quindi buchiamo mettiamo l'acqua e scaviamo fino a che non vediamo che l'acqua si ferma come dall'altra parte arrivati a questo punto prendiamo i distributori mi raccomando li posizioniamo in questo modo e dietro andiamo a mettere i ripetitori mi sono dimenticato la redstone vado un attimo a prenderla andiamo metterla dietro ai ripetitori e qui dietro mettiamo un comparatore adesso prendiamo i mattoni mettiamo uno qui continuiamo fino a qui ok facciamo la stessa cosa dall'altra parte adesso mettiamo anche sopra ai distributori con l'r3 mi raccomando tac perfetto facciamo così 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 e poi facciamo così e andiamo avanti arrivati a questo punto mettiamo due cubi qui uno qui sopra e la redstone qui poi qui davanti il pulsantino e così il nostro circuito dovrebbe funzionare andiamo giusto un attimo a dormire così vedete un po meglio adesso dobbiamo tirare via tutta questa fila qui prendiamo la cassa e la mettiamo qui adesso sempre tenendo r3 mi raccomando non sbagliate questo passaggio andiamo a a posizionare tutte le nostre tramoge una dietro l'altra fino a qui qui possiamo chiudere tranquillamente ci serviranno i cinque secchi d'acqua però non c'ho più l'acqua in questi due quindi vado un attimo a prenderla andiamo dietro ai distributori e dentro a ciascun distributore dovrò mettere un secchio d'acqua se io vado a premere il pulsante vedrò l'acqua che arriva fino a qui andiamo a prenderci i nostri semini e andiamo a sistemarli abbiamo piantato tutto il nostro grano adesso senza che aspetto che cresca vi faccio vedere giusto un attimino eccoci qua molto bene adesso il tutto andrà a finire nelle tramoge a parte questi due semini e troveremo tutto quanto nella nostra cassa spero che queste costruzioni vi siano piaciute vi siano state d'aiuto vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di attivare la campanellina lasciate un bel like di supporto che è fondamentale qui sotto in descrizione trovate tutti i link per i miei social detto ciò ci rivediamo in un prossimo video bella raga bella raga bella raga